Mi chiamo Chiara Dara e sono una neolaureata di relazioni internazionali e studi europei presso la Cesare Alfieri. Chiara, come hai saputo del premio? Ne sono venuta a conoscenza grazie alle news che vengono periodicamente pubblicate sul sito della nostra facoltà e poi perché mi era stato segnalato dalla mia relatrice della tesi. Qual è il mondo che vorresti? Questo premio si intitola proprio Il mondo che vorrei. Qual è il mondo che vorresti per il futuro? Diciamo coerentemente con quello che ho scritto nella tesi che poi è stata premiata, il mondo che desidererei sarebbe un mondo fatto di uguaglianza dove non esistessero discriminazioni che sebbene eliminate formalmente sulla carta in realtà continuano ad esserci e quindi soprattutto nei confronti delle donne che rappresentano ancora oggi uno dei gruppi più vulnerabili.